Un'iniziativa che si svolgerà prossimamente al Piazzale Caos, una giornata di domenica rivolta ai bambini, sintetizziamola. In questa giornata che sarà il 27 mattina dalle 10 alle 13 faremo un'iniziativa con i bambini al fine di sensibilizzarli alle tematiche dell'ambiente, ma non solo, facendoli anche conoscere, giocando insieme. Partiremo ovviamente con un'accoglienza e subito facendo capire cosa facciamo noi, perché lo facciamo e facendo vedere un breve video in cui prendiamo degli spunti su tutte le nostre iniziative passate. Dopodiché consegneremo le nostre magliette ai bambini che verranno all'evento e faremo una pulizia simbolica del posto, quindi raccogliendo le foglie, in modo tale che i bambini possano già approcciare con l'ambiente e avere un'immagine diversa di quello che ci circonda. Faremo una piccola piantumazione e infine si giocherà. Dopo i giochi consegneremo in concordanza con la regione siciliana due bancali di giocattoli che verranno regalati ai bambini e la giornata finirà lì con i saluti. Quindi l'invito è aperto a tutti? Sì, l'invito è aperto a tutti, è assolutamente gratuito come evento e vi aspettiamo veramente in tanti perché è una bella iniziativa che serve non solo a socializzare ma anche a insegnare ai bambini l'importanza di ciò che ci circonda. Grazie. Grazie.